La pandemia da Covid-19 sembra mettere in evidenza una gestione a due velocità della macchina organizzativa dove a farne le spese sarebbero i soliti cittadini. Alla tempestività dell'esito dei tamponi molecolari effettuati ai consiglieri comunali esonerati nel rispetto del DPCM dall'isolamento domiciliare, fa da contraltare l'attesa interminabile denunciata dai comuni contribuenti. Pesa anche l'obbligo alla quarantena di un operatore sanitario assunto dall'Aspec L2 per rispondere all'emergenza da Covid-19 ma trattenuto tra le quattro mura domestiche dallo SPEMP nonostante l'esito negativo del tampone molecolare. L'ultima segnalazione in ordine di cronaca è quella giunta da un giovane di 23 anni costretto da fine luglio alla quarantena obbligatoria e dal 13 agosto in attesa dell'esito del tampone molecolare che potrebbe significare il lasciapassare per tornare a lavorare. Salve, lei ha scoperto di essere positivo quando? Circa un mese fa, a fine luglio. A fine luglio. È stato sottoposto a dei tamponi molecolari, le hanno dato risposta? Negli altri sì, ma questo nell'ultimo no. L'ultimo tampone quando... Giorno 13 e non ho avuto ancora di nessun risultato. Quindi dal 13 agosto aspetta un risultato? Sì. Ha contattato gli uffici preposti dell'ASP? Sì, sì, ho chiamato tutti ma li attaccano tutti perché dicono che ci sono le linee in casa. Ma non le hanno inviato nemmeno un messaggio? No, 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 non ho avvisato. Io lo aspetto e non hanno chizzi. Lei vive solo a casa? Sì, sì. Quindi l'ASP non le dà nessuna risposta, ma almeno le dà qualche servizio? No, no, niente, niente. Dà solo il servizio dell'immondizia, però ritardano ugualmente. Lei cosa vuole dire adesso agli operatori dell'ASP? È che è una vergogna, solo perché ci è stato il 13 agosto di mezzo, cioè non sono riusciti a forzare avanti il lavoro. Sono molti indietro. È solo una vergogna, basta. È convinto che ci sia una disparità di trattamento tra lei e magari altri soggetti? Sì, sicuramente, perché è impossibile questa situazione di qua. Pesa è il silenzio assordante degli uffici dell'ASP di Caltanissetta allestiti per gestire l'emergenza da Covid-19. Il 23enne, solo tra le mura domestiche in isolamento domiciliare, si era sottoposto anche alla prima dose di vaccino. Intanto, domani, come confermato dal presidente Salvatore Sanmito, gli esponenti dell'assise civica dovrebbero conoscere l'esito del secondo tampone effettuato ieri presso il centro di Contrada Brucazzi.